Una web app pensata per le attività locali commerciali non solo che offrono i servizi di consegna a domicilio, delivery, ritiro in negozio, take away, è Local Delivery una nuova opportunità per i commercianti che il comune di Marostica ha colto con favore concedendo il proprio patrocinio. Il progetto nasce da un'idea di giovani imprenditori digitali che hanno deciso di mettere le proprie competenze a sostegno delle attività locali e imprenditoriali del territorio. Tutti gli utenti con pochi clic potranno così avviare una chiamata o inviare un messaggio WhatsApp per fare agilmente un ordine di spesa.